Buonasera sono Laura Antichi vi voglio far vedere come creare delle semplici linee del tempo aumentate con google presentazioni potrei anche farlo comunque con google disegni ma preferisco utilizzare le presentazioni le linee del tempo con le presentazioni si creano inserendo i diagrammi cronologici risultano aumentate se si inseriscono video o immagini o link l'aspetto negativo delle linee del tempo create con i diagrammi è che si possono creare linee con solo 6 eventi di massimo tuttavia è possibile continuare la linea del tempo sulle slide successive magari inserendo una freccia la cosa positiva è che creandole con google presentazioni che possono queste linee del tempo essere condivise anche in scrittura per il lavoro collaborativo degli studenti le linee del tempo riguardano una molteplicità di temi possono essere ad esempio gli eventi riguardare gli eventi di un momento storico le opere di un autore oppure anche la cronologia di una di un viaggio di istruzione vediamo ora come crearlo andiamo in nuovo e scelgo presentazioni di google ok qui aggiungo un titolo naturalmente di ne del tempo ok anche qui quindi linee del tempo e come tutorial metto sotto tutorial ok crea una nuova diapositiva cambio il layout lo faccio vuoto in questa diapositiva vado in inserisci e vedete che vado alla voce diagramma ok diagrammi scelgo cronologia date 6 il colore magari rosso cambio anche il colore già che ci sono potrei lasciare anche il blu va bene utilizzo posso utilizzare questo tipo di cronologia oppure altri tipi di cronologia ad esempio questa è anche carina vedremo dopo vediamo questa più lineare ho inserito quindi in questa linea quella che sarà la linea del tempo a questo punto qui posso modificare la data ad esempio partiamo dal 2015 e posso naturalmente ingrandire il la data quindi agendo andiamo a mettere 18 risistemo un attimo la casella ecco posso anche cambiare naturalmente il colore dal testo metterlo se voglio in nero lo lascio in rosso e sotto scriverò primo evento potrei anche scrivere dare un altro titolo qui posso inserire un breve testo naturalmente posso anche inserire un link e inserisci vabbè posso copiarlo da youtube un link di un video per esempio ho qui un link qualsiasi copia ok ritorno quindi alle linee del tempo ctrl v ok naturalmente aggiusto la mia casella di testo potrei anche questo video inserirlo sempre andando in inserirlo sempre andando in inserisci quindi video ok lo cerco in youtube prendo il solito tanto per quindi lo seleziono seleziona e posso questo video naturalmente ecco lo rimpicciolisco molto quanto basta lo posso anche inserire qua sopra o da qualche altra parte quindi in linea con la data o qui sotto se lo riesco a quindi fare più piccolo quindi mi riporterà al link quindi vado avanti 2015 posso scrivere 2016 eccetera eccetera finché ho finito la mia linea del tempo nel caso avessi bisogno di un'altra di continuare questa linea del tempo non devo fare altro che inserire una nuova diapositiva quindi nuova diapositiva e anche qui farà lo stesso processo cioè naturalmente inserisci diagramma ok ok e inserire questo di cronologia 6 il date e inserire un altro diagramma per continuare la linea del tempo che ho cominciato nella slide precedente potrei anche aggiungere un'altra una nuova diapositiva vi volevo far vedere che potrei qui inserire in questa nuova diapositiva una linea del tempo ad esempio diversa questa e questo mi risulta piuttosto molto interessante utilizzare questa linea del tempo naturalmente posso fare tutte le altre operazioni ad esempio cambia 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 sfondo scegli un'immagine potrei anche cambiare il colore vabbè cerca le immagini con google e sfondo vediamo se me lo dà mettiamo uno sfondo rosa e mettiamo questo inserisci fine quindi vedete che mi ha inserito uno sfondo che può rendere più bella più impressionante la mia slide posso anche inserire comunque delle immagini volevo solo farvi vedere inserisci immagini carica dal computer metto questa vabbè un'immagine qualsiasi apri ecco la rimpicciolisco per far vedere insomma che posso aumentare questa linea del tempo con delle immagini ok dopo aver inserito il secondo evento ad esempio il testo che mi indica che cosa riguarda questo secondo evento dopo aver magari qui messo un titolo dal 2015 al 2020 riguardo all'evento che voglio descrivere ma l'interessante è che una volta che ho finito la mia linea del tempo vado in pubblica sul web e quindi mi da la possibilità di avere il link quindi e di incorporare e di incorporare quindi e di incorporare pubblica vuoi pubblicare questa selezione ok ok e quindi come vedete mi da la possibilità mi da la possibilità di avere anche di incorporare questa linea del tempo e di incorporarla nei miei siti come vedete poi poi potrei anche condividere quindi e quindi copiando da condividi una volta che l'ho pubblicata sul web quindi con copia il link e in questo caso solo le persone aggiunte possono quindi utilizzare questo link per aprire oppure cambia in chiunque abbia il link chiunque abbia il link può può visualizzare posso cambiare quindi visualizzare come visualizzatore questa linea del tempo oppure come posso renderlo chi ha il link può diventare un editor questo permette quindi copierò questo link che è riguarda il quindi questa linea del tempo copiare questo link e che permette a chi ha il link di modificarlo perché chiunque navigli su internet e abbia questo link può modificare questo elemento come editor vado in fine quindi copio il link vado in fine e ho reso condivisibile il mio la mia linea del tempo questo che cosa significa che potrei mandare quel link ai miei studenti anche in classroom e invitarli a procedere insieme o per gruppi nella stesura della linea del tempo che riguarda un argomento scolastico naturalmente poi questa linea del tempo può essere scarica come un powerpoint potrei volerla scaricare come immagine tenendo presente che scaricandola come immagine se ne perde tutta tutta l'interattività ecco questo è tutto per quanto riguarda questa possibilità di creare delle semplici linee del tempo utilizzando Google Presentazioni buonasera buonasera come 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 come